Ciao Rana e Rospi e benvenuti in questo nuovo fantastico video. Oggi voglio fare una cosa un po' particolare, è una sorta di ritorno alle origini per me, al mio periodo adolescenziale in cui mi dilettavo con le grafiche, nei siti grafica, nei forum di Pokémon, queste cose qua. Vorrei provare a lavorare in un'ambientazione, uno scenario, un ambiente fatto in grafica pixel, quindi in pixel art. Io ve lo confesso, ho una sorta di fetish per la pixel art, mi piace davvero tanto e anche nel settore di videogiochi, adoro giocare ai videogiochi. In particolare ho questa predilezione per i giochi in pixel art, mi danno quel senso di retro, mi fanno ritornare un po' bambina, quindi se c'è un gioco in pixel art la mia attenzione cade inesorabilmente su quello e quindi ho detto devo assolutamente farlo. Quindi volevo innanzitutto usare l'iPad per schiacciare un'ambientazione perché sicuramente Procreate con la funzione delle griglie per fare la prospettiva e tutto agevola moltissimo la possibilità di realizzare delle ambientazioni. E poi volevo provare a passare sul PC usando il classico Photoshop che ho sempre utilizzato per fare pixel art, è molto comodo, per provare ad aggiungere colori, texture, trame e pixel soprattutto. Procreate aiuta un sacco questa questione delle griglie perché infatti andando qua io posso appunto aggiungere una griglia prospettica, simmetrica, 2D, isometrica. In questo caso volevo provare a realizzare un'ambientazione vista da un punto di vista appunto isometrico, vorrei crearmi una sorta di quadrato, quindi il riquadro, la porzione di schermo nella quale voglio andare a lavorare è questa. Poi all'interno di quest'ambiente magari appunto posso andare a costruire una casetta, ah magari ecco mi prendo anche delle reference usando il mio adorabile Pinterest. Pixel art environment, eccoci, guardate che bello, non ce la faccio, non ce la faccio, guardate che bellezza, i pixel. Poi è bello perché c'ha questa cosa Pinterest, questa ricerca visiva che tu cliccando così ti suggerisce tante altre immagini molto simili a questa. Sono davvero belle e pertinenti, spesso riesce davvero a trovarti tante immagini simili. Oh mio Dio, è bellissimo! No, questo non lo devo salvare, è definitivo. E ah, bene, questo, questo è il genere. Vorrei creare un ambiente cittadino, un po' leggermente decadente. Ok, dai, posso provare a cominciare. Ok, sono arrivata a questo punto. Sono piuttosto soddisfatta di quello che ho fatto finora, però volevo anche provare un'ambientazione che mischiasse un po' il cemento con il verde della natura selvaggia e ho fatto anche questo. È un po' più semplice, in effetti. Non mi dispiace il risultato, è carino. Sento di avere ancora dei problemi ad entrare più nel dettaglio e dovrei cercare di approfondire un po' di più. Comunque, uno di questi due sicuramente devo riuscire a portarlo a compimento in questo video. Magari un altro. Adesso vediamo quanto tempo ci metto per riuscire a fare tutta la parte, insomma, in pixel art, ma ora ci provo. Giusto? Carinissimo. Mi piace tantissimo. Pixel art! Il mio software preferito, o almeno l'unico che io conosca, per fare pixel art è Photoshop perché è un programma molto versatile e ti permette di fare un sacco di cose diverse, tra cui appunto pixel art. Adesso magari se riesco anche ad accendere la mobile... Ti puoi accendere, tesoro? Tesoro? Presidente! Se io, per esempio, apro un nuovo file vuoto e zoomo tantissimo, tipo molto di più, ecco, tipo così, attraverso Visualizza io posso dire a Photoshop di farmi vedere la... Griglia dei pixel... Dov'è? Perché non c'è? Eccola! Eccola qua, la griglia dei pixel. Finalmente l'abbiamo tirata fuori e quindi grazie a questa griglia noi possiamo, con lo strumento matita di Photoshop, possiamo disegnare pixel per pixel tutto quanto. Quindi il mio intento è prendere il disegno che avevo realizzato qua sull'iPad e realizzarlo... Eh, ce la faccio, eh? Ce la faccio prenderlo, scusate, due secondi, ecco, perfetto, ce la sto per fare. Prendere questa cosa fatta con l'iPad e farla qua, dentro, su Photoshop. Allora, prima di tutto devo adattare il bozzetto. Eccolo qua, questo è il bozzetto, un po' più grande di come dovrebbe essere nell'immagine. Ora ridimensionandolo, in questa immagine che in realtà sembra grande, ma è piccolissima. Ecco, si perdono, diciamo, i dettagli, ma non è così importante. Questa è, come si vede, l'immagine tutta un po' pixelata e adesso dovrò andare a renderla un po' meno pixelata, diciamo. Partirei magari dalla base, da quest'area quadrata qua, quindi abbassando l'opacità di questo. Poi dovrebbe essere tutto molto facile perché tenendo premuto con la mano sinistra al tasto Shift si possono tirare delle linee, il che è molto comodo perché appunto io con la matita posso fare delle linee dritte direttamente appunto qua sopra l'immagine. Allora, già partire dalla base è complesso perché ci ho messo diversi minuti per tirar fuori questa piccola base qua. Cioè complesso, nel senso probabilmente devo solo abituarmi, però non è proprio una cosa velocissima. Credo di star facendo bene a procedere per macroforme, quindi adesso ho fatto la base, ora proverò a fare gli edifici e vediamo un po' quanto tempo ci metto così, giusto per vedere se ho voglia di scoraggiarmi sin da subito. Ok, gli edifici esistono. Lo so che questa cosa è incredibile, ma esistono e ci ho messo del tempo anche in questo caso. Credo di aver fatto un errore alla base proprio di tutto, ovvero aver strutturato il tutto basandomi su una griglia isometrica fatta qua, ma non trasposta qua. Dentro Photoshop, almeno senza utilizzare plugin, non c'è modo di avere delle griglie prospettiche, isometriche, quindi di conseguenza ti trovi un po' a dover fare tutto, diciamo tra virgolette, ad occhio. Puoi usare i righelli, ma è molto, molto più complesso che su Procreate, per esempio. Non lo so, sono un po'... cioè credo di aver fatto dei microerrori prospettici che... non lo so. Proviamo, ma io vado avanti. Grazie a tutti. Sono molto in difficoltà. Credo di aver impiegato davvero molto più di quanto pensassi per realizzare solo questo blocco. Mi ha richiesto tipo più di un'ora, però devo dire che già inizio a capire delle cose. Per esempio, per andare avanti sto analizzando alcune immagini, sempre prese da Pinterest, di ambientazioni metropolitane, città, borghi, vicoletti. E una cosa che ho notato è che in ogni edificio, se vuoi dare un quell'aspetto un po' decadente, devi attaccare condizionatori ovunque. Questo è il trucco. In più, per differenziare un po' le varie finestre, non puoi fare tutte quante le persiane uguali. Io, per esempio, qui ho fatto delle persiane diverse. Quindi qui chiusa, qui aperta, qui una aperta e una chiusa. Per dare anche un aspetto meno regolare, meno logico. Perché poi più una cosa è regolare, meno è interessante. Non è una legge, però insomma più o meno. In questo caso almeno sì. Perché poi se il tuo sguardo cade sempre sullo stesso tipo di finestre. Sono un po' fusa? Sì. Voglio andare avanti? Sì. Sì. Ce la devo fare. Ok. Ok. È tutto pomeriggio che sono qui e non credo di poter rimanere oltre. Tante cose stanno venendo comprese dalla sottoscritta e il risultato mi sta davvero piacendo. Ovviamente siamo ancora molto indietro, siamo qui. Sono preoccupata più per una questione di tempistiche, ma più che altro per me, perché mi ero prefissata questa cosa di riuscire a creare un video dalla mattina alla sera e completarlo, cosa impossibile a quanto pare, ma non importa. Mi sento molto motivata a continuare, quindi porterò tutto a casa e probabilmente completerò la cosa a casa, probabilmente non in un solo giorno. Ma quello che conta è portarla a termine. Quindi ci vediamo in diretta da casa, direi. Sono a casa, ho messo qui tutto, ma sinceramente non so se avrò il cuore di continuare. Penso che lo farò a partire da domattica. È buio. È orribile fare le riprese con questo buio. Come previsto, tutti i nodi tornano al pettine proprio perché, appunto, i problemi prospettici di cui parlavo all'inizio sono dovuti al fatto che la griglia di Pixel non fosse proprio regolare. Se mi fossi attenuta, per esempio, alle mattonelle che ho fatto nel pavimento e avessi usato quello come una sorta di griglia generale per tutto il disegno, sono sicura che non avrei avuto di questi problemi. Comunque, andando avanti, mi sono divertita con le regolazioni, con i colori e soprattutto con questa bellissima ripresa generale che ho fatto con Photoshop. Mentre sul mio schermo, stavo andando più nel dettaglio, nell'altro schermo tenevo un po' tutto quanto, bello, largo e complessivo. Un nuovo giorno è giunto e anche dei nuovi poster sono giunti, sì perché con molto tempo. Non direi molta fatica perché poi andando avanti è diventato sempre più semplice e sono proprio entrata nel mood, ma il tempo, sì, è stato veramente tanto. È stata davvero una delle cose più lunghe da produrre che io abbia mai tentato di fare, però sono anche super soddisfatta del risultato. È tutto così coloratino, carino, molto frafrogoso. E c'è anche una seconda versione che era in realtà il mio vero intento. Io ci tenevo tantissimo a ottenere un risultato notturno, quindi volevo un'ambientazione immersa, diciamo, in una sottospecie di oscurità, illuminata però da tutte le luci dei negozi, delle finestre. Quindi, con molto orgoglio, che vi presento, adesso vi mostro la versione illuminata, e c'è anche la versione notturna ed è questa qua. Ero così contenta che ho prodotto anche delle stampe da appendermi qua dietro, con tanta felicità e tanto orgoglio. E in realtà il risultato mi piace così tanto che ho pensato anche già a un altro video da strutturare basato appunto su questa ambientazione. Lo vedrete a breve, appena avrò tempo di lavorarci, speriamo di metterci meno di quanto io ci ho messo a fare questo video. In totale non so quanto ci sia voluto, ma ve lo dirà questo numero, che appare proprio qua, alla mia... Ho imparato davvero tanto nel fare questo video, ci sono state veramente delle illuminazioni che ho avuto nel mentre. Per esempio le parabole, l'altra cosa che decora tutti i muri delle case, panni stesi, i comignoli. Sono tutte cose alle quali non ci pensi, perché sono elementi anche in realtà abbastanza brutti, che se potessero non esserci le nostre case apparirebbero decisamente più belle, ma in realtà sarebbero spoglie. Perché se pensate a questa cosa senza i comignoli, senza tutti i cavi, senza i tubi, le grondai e le cose, sarebbe... Boh, mancherebbe qualcosa. Che bella la pixel art. Che bella la pixel art. Basta. Quindi mi raccomando, lasciate un commentino anche soltanto per darmi un qualcosa che mi faccia dire Sì, ho speso bene queste ore. Grazie mille per aver visto questo video. Spero tanto di farvi vedere presto cosa altro ho in mente di fare con questa ambientazione. Vi dico solo una cosa, animazione. E vabbè, praticamente ho detto già tutto. Non importa. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!